Cosa pensi sia cambiato tra il fare politica oggi rispetto al secolo scorso? Ora, ovviamente non è che voglio darti dell'ante diluviano, del vecchissimo, però tu hai iniziato a fare politica che eri molto giovane, giusto? Avevi vent'anni, ventidue. Cosa, eri consigliere, giusto? Ero consigliere comunale, sì. Con i democratici di sinistra. Sì. Era diverso quel mondo rispetto ad adesso? Cioè, questi tifi che tu hai descritto non c'erano? Beh, insomma, allora spuntò Berlusconi, che polarizzò moltissimo in termini di tifoseria anche per ragioni milanistiche. Quindi era già così in un certo senso. Sì, però c'era anche dell'altro. Cioè, c'erano l'ultima coda dei grandi partiti politici. Che comunque... Che si agganciavano a degli ideali specifici. Adesso abbiamo pubblicato un libro su Mattarella e il rapporto che ha con i giovani italiani e la percezione che hanno i giovani, che secondo me è un libro carino. Ovviamente non vi faccio pubblicità e lo spiego solo perché... No, no, fallo, fallo. Mattarella era un grande politico. Cioè, rileggerlo oggi... È chiaro che si sembra Plinio il Vecchio e l'anteguerra, diciamo, millenni fa. Però, quando lui ha fatto delle cose, le ha fatte bene. E tu le capi... Cioè, rileggerlo... È ovviamente noioso, non è veloce come adesso. Certo. Però forse era un po' più lento. Magari qualcosa si capiva. Parlava una platea di persone... Per esempio, erano tanti iscritti ai partiti, era tanta la partecipazione. Poi magari non serviva, non funzionava, non è che c'è un'età dell'oro. Però c'era un posto dove fare queste discussioni. Che non era solo tu sei cretino e tu di più, no? Tipo Sgarbi. Cioè, siamo diventati tutti come so che Sgarbi ha anche un po' di talento nel fare casino. Gli altri sono lo scimmiotta, no? Gli urlatori. Quel posto lì c'era. C'era un discorso collettivo. Cioè, se essere della democrazia cristiana o del partito comunista o del partito socialista non era solo una bandiera. C'erano dei libri, c'erano delle persone, c'erano anche tanti leader. Non solo uno, se ci pensi, no? Queste correnti di cui si parla sempre con un po' di fastidio. Però in realtà rappresentavano ispirazioni. Nella democrazia cristiana ce n'erano, non so, una cinquantina. Nel PC ce n'erano tante, anche se il PC era molto più controllato, no? Un po' questo centralismo, no? Per cui tutto si doveva risolvere. All'interno del partito. Esatto. Che poi non era vero neanche allora, perché tutti sapevano benissimo che Berlinguer, Napolitano, Giallo, cioè Amendola, Ingrao, c'erano… Quindi già c'erano queste cose. Comunque si parlava di queste figure… Certo, però era una cosa, non so come dire, non era legata alla personalità, a quello che sta a magnà in Berlinguer. Berlinguer diceva delle cose e su questo si costruivano schieramenti interni, esterni, c'era un dibattito. Se ci pensi, adesso la figura per me più incredibile in tutta questa storia è quella del Presidente del Consiglio, ma non perché ce l'abbia con lui, però uno che fa il Presidente… Cioè, metti che stai parlando con Civati che è stato Premier con Salvini e gli fa un'intervista e dici adesso faccio Premier con Zigaretti. Sì. Non è normalissimo, eh. Cioè, provo a avere qualcuno… Invitalo Conte, magari vieni. Eh, vediamo. No, cioè, è forte, al di là del giudizio morale o politico, capisci cosa… Cioè, cavoli, questo era il Presidente del Consiglio con gli uni e poi anche con gli altri. Non lo so, cioè, si perde un po' il contenitore, il contenuto, si perde un po' tutto. Cioè, Conte chi è? È quello che abbiamo conosciuto? Mi spiego? Sì, ma, quindi, alla fine stiamo facendo un discorso di contenuto che sta a supporto di queste varie figure, no? Io credo… Esatto, di pensieri… Di pensieri, di ideali anche, no? Di grossi ideali che c'erano alla base del Partito Comunista, di quello socialista… Paradossalmente le figure della destra sono molto più riconoscibili, nonché… Cioè, non c'è una grande elaborazione, secondo me, nel dettaglio, perché poi sono grandi slogan e parole pesantissime, però… Su alcune questioni loro… Ed è per quello, secondo me, che funzionano di più, al di là di tante ragioni che poi possiamo indagare, ma… Sono più riconosciuto… Cioè, tu sai che Salvini è quello che dice tra quattro cose. Sì. E che intorno a queste picchia, ripicchia… Francamente, uno dei grossi problemi del centrosinistra di adesso è che… Cioè, Zingaretti, qual è la battuta di Zingaretti? No, è una domanda seria, è una mia. Secondo me non l'ha ancora trovata, o comunque non riesce… Non ha la precisione, o il coraggio, o la possibilità di farlo, non lo so, però, insomma, di dire… Questa è la mia battaglia per i prossimi sei mesi, che era anche l'unico modo per stare al governo, perché per fare un governo così Salvini va al cento per cento, cioè lo votiamo, tranne me, te che non lo votiamo, gli altri lo votano. Capito cosa intendo dire? Quindi, è un lavoro significativo da fare, quello di individuare delle questioni, che sono ovviamente degli slogan, che sono anche cose da spendere velocemente, ma che abbiano un portato. Per esempio, a me fa più paura di Salvini, non fa tanto paura al modo, che non mi piace, ma questo rapporto con la Russia, ecco dove ci porta, per esempio. Cioè, non è che è una domanda maliziosa. Cioè, loro dicono meglio la Russia dell'Europa, di fatto, no? Ok, parliamone, cioè spiegamela, sono curioso, no? Perché è grossa, anche quella lì. Ma tu pensi che ci sia una sensibilità dell'elettorato, ad esempio, sulla questione russa? Perché io non credo. Secondo me sì, perché lì si parla di cose che si mangiano, non quelle che Salvini fa vedere nei tweet o nei post su Facebook. Indubbiamente, ma è percepita questa cosa. Eh, non lo so, secondo me questo è un tema. Per esempio, per quello che ti dico, lì c'è la ciccia, sarebbe da discutere parecchio. Cioè, non è soltanto una roba per fare gli spiritosi. È una cosa, al di là dei soldi, dei rapporti di Savoini, dello stesso Salvini che andavano in Russia a fare qualche cosa. Lasciamoli da parte un attimo. Ma se tu scegli la Russia come interlocutore, come sistema di valori, come modo anche di interpretare la democrazia, fai una scelta molto impegnativa, eh. Di questo mi piacerebbe che se ne, con calma, come stiamo facendo io e te. Cioè, finisco di parlare io, tu dici, ok, ti faccio una domanda. Sarebbe un podcast nazionale interessante, no? Salvini, spiegaci perché preferisci la Russia. Hai valutato le conseguenze, che cosa significa? Cioè, Putin, al di là del fatto che ti serve nei comizi, ma è presente che cosa fa Putin, chi è, come è strutturato il sistema. Cioè, ci piacerebbe davvero il sistema economico della Russia, con gli oligarchi, non lo so. Per dire, sono domande che, cioè, sarebbe bello fare un argomentare, ragionare e capire alla fine. Secondo me le persone interesserebbero. Per esempio il gas, è una questione che riguarda la tua parte della Sardegna, che come è noto. Sì, sì, per carità. Però ci sono tanti argomenti, il petrolio, le fonti fossili, il modello di sviluppo, sono tutte cose che le persone, se fossero abituate a ragionare così, secondo me, troverebbero interessanti. Se il tema, invece, è semplicemente, che cacchio ha detto Salvini, e come gli ha risposto Civati, boh, cioè, o Zingaretti a Renzi, o quell'altro, o la Meloni contro... Che poi sembrano quei film degli anni settanta, no? Cioè, Milano spara, Roma risponde, cioè, boh, sì. No, Godzilla contro Fantozzi, poi non so perché... Grazie a tutti.